Dire che io so delle cose che gli altri non sanno, che mi sono messo d'accordo con gli altri, perché è l'unico modo per avere la certezza di vincere. Quindi che cosa ti posso promettere? Ti posso promettere che faremo tutto il possibile per dare la stabilità necessaria. Poi vengono i risultati, vengono perché c'è una mentalità vincente, capito? Diciamo che lei rispetto a Samparini ha tanti vantaggi, perché quando Samparini è stato il Presidente contestato, per me è sbagliato, perché molti dimenticano che Samparini è venuto con la C2 e ci portò in Europa. Però siccome i tifosi, e io sono un tifoso, vogliono sempre di più, è giusto. L'unica volta che noi siamo retrocessi in Serie B, subito siamo risaliti come ha fatto la Juve e il Milan. Non capisco perché questo Presidente è stato contestato. Ma sai che cos'è? Ma per onde meno. Dico, lei ora è, dico che sia, scongioriamo di rimanere in Serie A. Siamo in Serie B, rispetto a Samparini. Quindi le auguro quello che ha fatto lui, ma un qualcosina in più. Perché lui ha fatto bene. Guarda, siamo qua per provarci. Cioè, nella vita è certezza che non ci facciamo. Non so se lei è d'accordo con la mia... Sì, assolutamente. Allora, la Serie A è una realtà che è ancora lunga. Ci sono ancora un sacco di punti, ci è un calendario ottimo. È meglio il nostro calendario che quello dell'Embra. Ma la matematica non ci condanna. Allora... La matematica, i numeri. Sai che cos'è che ti condanna nella vita? La testa. Quando tu diventi un perdente nella testa, tu puoi essere anche un calendario. Ma riesci a finire per strada, capito? Quindi... the best!